20 anni ancora da compiere e una carriera automobilistica costellata già di tre titoli italiani su quattro stagioni al volante. L'Associazione Terra di Piloti e Motori ha voluto celebrare questo weekend il talento di Diego Di Fabio, pesarese doc e nuova grande promessa dell'automobilismo nazionale. Nelle Palazzo della Prefettura, fra Cortile e Sala del Gengo, hanno fatto bella mostra i trofei e l'auto Honda del Team Nova Race con cui Di Fabio ha vinto tre delle quattro gare del campionato 2022 di Gran Turismo GT3 che lo hanno consacrato campione italiano della categoria. Un titolo nazionale che si aggiunge a quelli conquistati nel campionato GT3 l'anno prima e in quello del Challenge Mini al debutto al volante. Sono contento delle quattro stagioni in auto che ho fatto, i tre titoli in quattro anni sono una cosa molto positiva, direi che comunque la mia crescita è stata ottima durante questi quattro anni, con la mia poca esperienza comunque ho fatto un'ottima stagione essendo anche il primo anno nella categoria GT3 che è la categoria con le auto di più alto livello che c'è a ruote coperte. È stata una bellissima stagione, sono cresciuto tutto l'anno, siamo partiti dalla prima gara che è stata giù in Sicilia nell'autodromo di Pergusa ed è stato un weekend in crescita e da lì sono migliorato tutto l'anno fino ad avere le ultime gare delle ottimissime prestazioni a livello dei primi della classifica assoluta. Un 2022 non solo col titolo GT3 ma anche con una sorta di bis al GT4 in cui Di Fabio è stato richiamato al volante della Mercedes a causa di alcuni infortuni che hanno portato la vecchia vettura a rivincere il titolo di categoria. Dei due piloti dell'equipaggio uno ha avuto un problema fisico durante quel weekend quindi mi sono ritrovato il venerdì a salire in macchina con la vecchia Mercedes che ho usato l'anno scorso per correre nel GT e mi sono trovato da subito molto bene, poi tornare indietro nella classe un po' inferiore è stato tutto molto semplice. Un surplus di soddisfazione anche l'aver sfidato ex mostri sacri della Formula 1 come Fisichella, Barrichello e Timo Glock oltre a piloti scafati del Gran Turismo. Abbiamo fatto vedere che le prestazioni ci sono anche per lottare nella classifica assoluta e stare lì al gioco insieme a piloti blasonatissimi come questa gente qui che viene dalla Formula 1, comunque da panorami motoristici molto importanti ed era importante farlo vedere quest'anno. Per me era importante fare esperienza nelle auto di categoria GT3 e abbiamo fatto da subito notare che le prestazioni ci sono. Un pilota che Terra di Piloti e Motori ha celebrato alla presenza dell'applauso delle istituzioni e degli sponsor che sostengono il talento di Di Fabio. Questa iniziativa è anche un riconoscimento a un pilota del nostro territorio che veramente ha avuto una vittoria a livello nazionale. Devo dire che Terra Piloti e Motori in questi ultimi due anni ha fatto veramente un lavoro importantissimo di promozione del nostro territorio ma soprattutto dei tanti piloti che veramente si stanno facendo largo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Un bellissimo pomeriggio di festa, ho voluto essere presente anche per portare il saluto del Consiglio regionale e per ringraziare Diego per le vittorie ottenute. Stiamo già lavorando per il 2023, speriamo di crescere sempre di più a livello di categoria comunque a livello di campionato e di lottare sempre, stare davanti nella classifica.